Se andiamo a scaffare delle librerie, vediamo che ne sono molto nutriti di testi classici, che sono quelli che paradossalmente si dice ancora vedono, forse perché sono già noti, forse perché a un lettore occasionale di poesia è più facile avvicinarsi a un testo di cui ha già sentito dire qualcosa piuttosto che a un testo di cui poco conosce, anche rispetto agli autori. Allora la doppia domanda era cosa accadeva quando tu invece cominciate a formarti e ad avvicinarti alla poesia e cosa potresti suggerire a chi si vuole avvicinare alla poesia oggi, piuttosto che andare dal solito con Shakespeare o i canti di Leopardi o se va bene Hickmett, Tagore e via dicendo. Guarda, il fenomeno penso che sia facilmente spiegabile anche in termini di proprio reazione emotiva. Faccio un solo esempio, il mio amico Dario Bellezza che è morto nel 95, aveva tre anni più di me, io sono del 48, lui era del 45, quando era di lente, pubblicavo i libri come faccio io adesso da Mondadori o da Berglanti, vedeva i primi da coppie canoniche, tirate la tiratura che dicevo prima, quando andava tutto bene. Come Dario è morto nel 95, la Mondadori ha inaugurato la collana dei mietti, che erano quei libretti rettangolari, che si usavano dei cd, dove appunto c'erano i classici, sacco, e lui morto, perché se lui fosse stato vivo, mai ce l'avrebbero messo in quella collana lì, lì ci mettevano Sacco, Rimbaudi, cioè quelli da 100.000 coppie, perché è chiaro che adesso erano, mentre il libro mio di poesia costo 15 euro, i uniti costavano 2-3 euro, perché erano prezzi stracciati, prezzi da Oscar, da libretto commerciale. Ecco, tutto ad un tratto, bellezza, messo in quella collana, ha venduto 100.000 coppie. A questo punto io dico, spero di non venderle mai, perché preferisco essere vivo a Piazza Nagona, continuando a venderle 3.000, piuttosto che qualcuno dall'aldilà mi dica, guarda che è venduto 100.000 coppie, ecco, al di là delle facce di battute, però c'è quindi un dato emotivo abbastanza evidente in tutto questo, perché non è che bellezza nel giro di due anni è diventato un classico, e ha avuto, no, semplicemente è stato messo nella collana, il personaggio con la morte si sa diventa, c'è una PIL che da vivo non hai, ed ecco che automaticamente sei passato. Quindi c'è un dato, come dire, emotivo, psicologico da tenere presente. Adesso non mi ricordo più di fatto. A te che cosa è successo invece? Quando eri giovane. Ah, quando io avevo 15 anni. Perché Pia adesso comincio a farti un po' di domande sulla tua esperienza. No, ma io quando avevo 15 anni, guarda, io sono sequestrato. Intanto avevi 15 anni, quindi diciamo che è un ragazzino molto... Poi, a parte che quello che ho fatto 15 anni sta in quel libretto qua, che magari... Che ci sono gli ultimi nei libri? Questo librino qua che è appena uscito da zona editore, si intitola Reperto 74, e 74 inteso come anno, io ero 74, ho 26 anni, e quindi ci sono dei racconti scritti in epoca recente e altri scritti appunto quando ero molto giovane, in cui racconto dalla mia adolescenza. E questo è proprio racconti, racconti, che sono i prodotti. Ma io nelle librerie, allora poi, non è che ci fossero le librerie che ci sono oggi, quando avevo 15 anni io, le belle librerie non c'erano ancora. Però c'erano le vecchie librerie, quelle vecchie libraie. Io ricordo, per esempio, aggrappato in alto a certi scaffali della libreria, Caru di Gallarate, che poi è diventata importante anche come negozio di dischi, dove... E mi trovavo le vecchie edizioni di ammarresse, di poeti, di narratori. Cioè, hanno delle vere e proprie scoperte. Io credo di poi biblioteca, naturalmente, biblioteca, biblioteca e librerie. Oggi è chiaro che uno entra alle messaggerie o entra al Melbook Store, anzi, mi approfitto per dire che domani sera, alle 18, al Melbook Store di Via Nazionale, ci sarà anche Nicola, e presenteremo con Gabriele Frasca proprio questi due libri. Questo Donzelli, che è appena uscito, e questo qua, dei racconti. E quindi, la mia formazione è stata in questo modo, andavo a scuola, eccetera, però leggevo molto per conto mio, facendo le scoperte. Ecco, cioè, proprio le scoperte, le scoperte, non mi accontentavo di quello che la scuola mi dava, capivo che c'era un libro. Cioè, capivo che tutta quella noia che deriva dalle sintassi greche e latine, da quella filosofia insegnata in quel modo, nascondeva qualcosa di molto bello che io dovevo scoprire e che loro facevano di tutto per farlo scoprire. E gli parti poi, a un quindicenne, a un diciottene, tutto sommato, piace arrivare al son del vero testo. E quanti tesori ci sono nella letteratura latina e greca che a un adolescente gli piacciono perché gli parli di gioventù, gli parli di sesso, gli parli di rapacità sulla vita, gli parli d'amore. Tutto questo io non l'ho scoperto da solo perché credo fosse oggi qualche insegnante così, magari qualche poesia latina o greca un po' reale, te la consegna, ma se no era una morte civile. Io quindi i classici me li andavo a vedere in biblioteca e ogni tanto trovavi le pagine censurate, trovavi tutte, io marziale non lo so, ma voglio dire proprio, capire che il mondo era stato vivo, che il mondo era stato vivo, che prima del cristianesimo, che ha messo questa cappa anche sulla cultura, nel senso pagano del termine, io sto parlando di un ragazzino che era nato in Lombardia, che è vissuto negli anni 50, nella Lombardia più retriva e cattolica, quindi per me effettivamente la cultura ha rappresentato un affrancamento da quella educazione fortemente costrittiva e castrante che da un lato la famiglia e dall'altro e dall'altro proprio la società insieme mi volevano dare anche la scuola, rigida, serio, per carità, la sintassi e lingue straniere, però la vita è anche fatta di un frisson diverso. Ecco, quindi io ho trovato un frisson diverso. Cioè io ho amato la poesia perché dovevo fuggire da quella cappa, dovevo scoprire che anche 3.000 anni prima, 2.500 anni prima, si era amato, si era sofferto, si era goduto, come io volevo godere, come io sentivo che il mio animo e il mio corpo volevano godere e la famiglia e la scuola non mi davano niente di tutto questo. E quindi la letteratura e la poesia dello specifico per me è stata una di grande liberazione. È stato il modo per capire che la vita poteva essere anche qualcosa di diverso. E quindi adesso senza voler dramatizzare nulla, per carità, però quando poi ho raggiunto con i 18 anni, 20 anni, la mia autonomia, la mia diperiore, perché ho cominciato a lavorare a 19 anni, per cui ho fatto sempre tutto, poi con le bursi di studio, l'università, eccetera, e quindi sono in qualche modo affrancato e sono stato libero, per me la vita è stata più felice. Io quando sento dire che l'adolescenza è il periodo più bello della vita, inorridisco, per me è stato il periodo più brutto, più orredo, più castrante. La vita per me è cominciata dopo, è vera, ma la vita giovane, ecco io mi sento oggi molto fresco, anche se ho 60 anni, perché sono libero, ecco, quindi il, a volte, avere un'educazione di cielo, un'educazione estremamente costrittiva, può provocare questo effetto, che poi mi difendice adesso la resistenza, Ma è vero che vorrei non vedere mai le 100.000 copie, voglio continuare a vivere, ecco, per questo, per questo, cioè, o vedere proprio quando avrò a... è un'educazione di